Tragedia lungo la strada comunale di Caminate a Fano, dove oggi, intorno alle 12.30, Massimo Pastore, 49 anni, originario di Napoli, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Secondo i primi rilievi, il 49enne, alla guida di una C1 bianca, stava percorrendo la strada comunale di Caminate in direzione Fano, quando nel fare una curva avrebbe perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta, dove nel mentre stava sopraggiungendo una panda di colore nero con a bordo Claudio Isabettini, 63enne del posto. L'urto tra le due auto è stato talmente violento che la C1, a seguito dell'impatto, ha ruotato di 180 gradi posizionandosi con la parte frontale in direzione Caminate. A loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne, morto sul colpo, mentre il 63enne è stato trasportato al pronto soccorso di Pesaro e, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato almeno una frattura. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e per la regolamentazione del traffico e di vigili del fuoco di Fano.